Inoltre, posso mostrare anche i pezzi, i singoli pezzi. Ok, ogni linea ha tre tipi di pen. Roller, pen. Come si chiama la stilografica? Font and pen. Con il stesso plastico, con la stessa dimensione. Ok, questo è il giro. Qui puoi vedere la scuola di Florence. Ok, la linea del cielo. Eccola, questa è bella. L'avatar è la nostra prima linea. È questa. È un giro. È un giro. Cosa si può vedere? È un giro. 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 Sì, è la stessa, ma è la stessa, ma è la stessa, esattamente la stessa. Posso vedere la stessa. Ho inserito la springa, la clip, e la stinger. E la vogliono per domani, lo so. Magari ha certo che lo faccia realmente, ma non lo dà. Perché non arriva. Sì, è quello che ho detto a te prima. La nuova limitazione. Oh, è questo? Sì, è quello che mi piace molto. C'è un po' di silicone. E un po' di silicone. E un po' di silicone. È sufficiente. Ok. È magico. E poi con la colla. Oh, ok. Ho finito. Ho finito. Sì. Quindi. 動 gentleman. Take pictures? Yeah, è gelo. Video? Ok, ok. Oh, ok. …and the meccanismo a parte del rifi e poi vediamo i colori i migliori i miei osi i miei osi per i miei osi per in Italia ci sono i tempi congrui se no lo attirano in un treno ha detto Linda sto guardando la partita io quella la conosci meglio te perché io non l'ho montata scusa non puoi capire come riempire l'inco provate ricaricare riempire il misterio di Dante ho già scoperto Dante non puoi sentire mi ha conosciuto da quando era alto cento centime interessante eeeh non ho mai visto la film eeeh e quell'altra è uguale la rosa la stessa pen cambia i colori ma quando questo è sotto non è possibile non è possibile ma quando si riuscita si riuscita non riesce ma quando si riuscita e quindi si riuscita ho capito mi ha fatto un po' di più è divertente è un po' di più 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 bisogna dire la Dante è un po' di più è un po' di più e un po' di più Sì, sì, sì. Però ci sta punti che lo strasso così. No, sono due osse diverse, non facciamo mai, sino. Non si può fare, non si può fare. Non si può fare per bene, perché in effetto attingi la via. Sembra quel film con Totò che... Sì. Poi loro pazziscano. Ora scrive, normalmente. Poi, con le pazzeschi, farà un caligrafo per te. Vuoi provare? Sì, provare. Puoi scrivere in giapponese, sì. 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 In questi giorni io vivo mezzo giapponese. Sì, c'è la sorella di sua moglie che si sposerà in giapponese. Lui ha la moglie giapponese. Lui ha la moglie giapponese. Ma il mio nome? Ah, il mio nome. Marco. 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 Mi ha detto, fagli vedere. Quindi io mi stavo dilungando per questo. No, no. No, no. No, no. No, no. Marco. 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 Questa è il nome? No, no. Un altro nome. Un altro termino. Un altro termino. No. Abbiamo tre tre termino in giapponese. Questo è il hiragana, kanji e katacana. Ok. Minuscolo, minuscolo e stampatello All the same Quando ci vorrei imparare? È molto difficile Per imparare, per scrivere, tutte queste cose Non possiamo imparare No, non possiamo fare questo